Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono qua con un'ennesima stampante 3D davanti a me, ma questa è una stampante 3D un po' particolare perché come avete detto da titolo è la stampante che si configura come perfetta per l'ABS. Perché? Perché semplicemente ha già un cubo di metallo tutto fatto e quindi ci permetterà con pochissimo sforzo, con due pezzettine di plexiglass, di chiuderla completamente ed evitare i vapori tossici dell'ABS e quindi ci può permettere anche di stampare queste plastiche che nell'estrusione, al momento di riscaldarle per estruderle, sviluppano appunto vapori tossici. Vado ad aprire la scatola perché volevo solo farvi notare, prima di partire con il time-lapse di tutta l'unboxazione, volevo farvi notare quanto sia curata questa scatola, addirittura hanno fatto il buchino per andare col dito a tirare su le lastre, non ci credo. Qua c'è giusto un foglio che hanno usato loro con tutte le vifate a penna per controllare che ci fosse tutto nella scatola. Un benvenuto utente, direi procediamo subito ad unboxare tutto quanto e via al time-lapse. Proviamo degli attrezzi, attenzione attrezzi di qualità, abbiamo un troncasino diverso dal solito, più grande, una paletta con il manico addirittura in legno. Ok, e niente, devo procurarmi delle istruzioni. Ok, piccolo taglio, il giorno successivo mi sono fatto mandare le istruzioni perché effettivamente nella scatola non c'erano. Vediamo di metterci all'opera e se anche voi non le trovate in confezione, semplicemente guardate questo video e vi spiego bene come montare tutto per filo e per segno. Allora si parte dalla base questa qua, dicono se traballa, come nel mio caso, bisogna semplicemente girarla, svitare uno dei piedi e applicarci una delle piccole rondelle che immagino troveremo qua dentro. Facile da fare? Sì. Ne ho voglia? No. Quindi semplicemente la rigireremo e faremo finta che non trovarli. Vado intanto a recuperare tutte le viti, tra l'altro guardate che bravi. Si hanno messo un adesivo con il contenuto del sacchetto in ogni sacchetto e ogni tipo, ogni pezzo di hardware ha un sacchetto diverso, isolato per conto suo. Allora mi servono le M6x8 con gli Shim M6, sacchetto 2-3. Ce ne servono giusto 4 con le loro rondelle e poi ci servono questi profilati AL, queste piccole angoliere, che faranno i bordi della nostra stampante messi così, in questa maniera. Primo step è molto semplice, vite, rondella, profilato AL con l'angolo verso il basso. Si mette l'angolo in hop là e si va ad avvitare, ovviamente è meglio con la brugola che con le mani. Avvitiamoli quasi del tutto ma lasciamoli un minimo basculanti perché poi ci servirà per stabilizzare tutta la struttura. Ovviamente va fatto per tutti e quattro però. Ok, 1, 2, 3, 4, tutti un pelettino molli. Andiamo a prendere il sacchetto 10-11, ci sono le viti M3x6 a testa piatta. E andiamo a prendere anche da qui sotto i vari pannelli che ci chiudono la stampante, che sono quelli che la rendono così interessante. Assieme a qualche altra funzionalità che non vi ho ancora detto, tipo il wifi, perché si può stampare anche via wifi, questa stampante ha il wifi. Ma questi pannelli di bella plastica nera con un orso volante super trash sono quelli che ci permettono di chiudere la nostra stampante. Quindi vado a prendere la stampante, girarla di lato, applicare il primo pannello, M3x6 e vado a fissare i pannelli. Mi servono 12 viti. I buchi in basso sono gli unici che ci sono in basso, molto semplicemente. I buchi in alto sono quelli stretti e allungati. Vedete, una volta che entro con la vite, comunque il profilato, un pelo, si può muovere. Ok, prime quattro fatte. Prendo la stampante là, giro dal lato opposto. Altro orso, altro lato della stampante, altri quattro. E due, raddrizzo la stampante e la vado a inclinare sul davanti. Sul davanti, cioè il davanti in basso, perché così mettiamo anche il fondo della stampante, che ha questa finestrella qui su un angolo. L'angolo con la finestrella va in alto a sinistra. Ok, fondale fatto. Abbiamo tre pareti su... abbiamo quattro pareti su sei. Se recuperassi la brugola più grossa, potremmo andare anche a stringere adesso finalmente in maniera migliore. Vedrete molto buio qua dentro adesso, ma effettivamente avessi messo quella rondella sul piedino non ci stava male. Ma continuiamo a fregarcene. E prossimo step. Anzi, la teniamo ancora un secondo così, a faccia in giù, perché sennò è impossibile mostrar... In realtà è impossibile lo stesso mostrarvelo. Ci sono delle piccole fessurine qua. Faccio fatica a vederle anche io, occhio nudo. Pensate, eccolo qua. Sì, ci sono queste piccole fessurine dentro, molto in profondità, tipo due centimetri in dentro. Ci sono dei piccoli dadi che possiamo allentare. Vediamo se si riesce a fare con questa brugola, ma devo andare un po' alla cieca. Ok, sì, era la stessa, ma è veramente complesso. Facciamo una cosa, avete capito dove sono? L'adrezzo alla stampante e me lo faccio qua dietro senza che voi vediate, perché così nel frattempo a voi vi mostro che questi due pali li vado a serire nei buchi qua dietro. E se non ci entrano vanno allentate un po' di più le viti sul retro. Entrano entrambi, fantastico. E allora le viti sul retro vanno strette adesso, in modo che il palo non possa più uscire. E uno e due. Ok, la stampante la vado a mettere un attimo qui da parte, perché noi ci occupiamo un secondo del nostro piatto qui. Piatto che è in vetro, vuole imitare un po' la ultrabase della Ender, nel senso che è questo vetro tutto così pallinato, strano. Dovrebbe essere un piatto su cui la roba aderisce piuttosto bene, ma non è ancora il momento di spellicorarlo. Vogliamo prendere questi due cogi qua insacchettati, piuttosto unti, fate attenzione, e cercare di infilarli qua nei buchi, quindi da sotto. Stiamo guardando il sotto del piatto, questo qui è il sotto del piatto. Andiamo a prendere anche il sacchettino numero uno, con le nostre viti M4x10 testa socket. Otto di queste, ovviamente, a fissare questi cuscinetti a sfera lineari in posizione, perché saranno quelli che faranno i linear per lo scorrimento sulla sedeta del nostro piatto. Raga, nelle istruzioni queste viti si avvitano magicamente al pezzo di metallo. Secondo me il loro pezzo di metallo è filettato. Nel mio caso penso di dover usare questi dadi, perché non vedo come altro... Ok, ce l'abbiamo. Lo vado a mettere un attimo qua in parte, perché nel frattempo torna la nostra stampante. Il piatto lo prendiamo e lo inseriamo qua nelle sbarrette. Una, due, boom, e abbiamo anche la sedeta. Nel frattempo prendiamo il nostro riquadro qua. Vado a liberare le fascette, utilizzando un tronchesino, ma attenzione a non tagliare i cavi. E vado a mettere questo piccolo anellino qua di cinghia, in modo che possa scorrere in su e in giù per il palio, e la metto un po' più verso di qua, verso i fili. E scendo qua sopra, entro a fatica, spingendo. Insomma, dovete riuscire a entrare. I pali sono, in tutto questo, pienissimi di olio. Fantastico, la Sony aveva smesso di registrare e manco mi aveva avvertito. Comunque, dicevamo, la cosa divertente è che a questo punto delle istruzioni hanno smesso di dirmi quali viti vanno utilizzate per cosa. Quindi dovremmo andare a intuito e un po' di fortuna. Quindi suppongo siano queste M4x6. Sono le uniche di cui ce ne rimangono tante. Sì, 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 comunque servono delle M4 qua, perché sono loro. Vabbè, ne vanno, come dicevo, quattro sul retro. Evito di stringerle del tutto, perché potrei fare danni, potrei fare cose di cui potrei pentirmi. Poi faccio lo stesso con tutte quelle di fianco. Ok, si era scaricato tutto quanto. Dicevamo, ho tolto giusto qua il fondale, giusto per vederci, perché così avete anche più luce voi. Potete a questo punto toglierlo anche voi, se siete più comodi ad agire. Ma prima ci serviva per dare la forma giusta al cubo. Quindi comunque mettetelo in ogni caso. E poi se volete, a questo punto potete anche toglierlo. La nostra rondella qui, che si è anche persa la cinghia, eccola qui, la andiamo a spostare oltre il palo, quindi qua in fondo. Altra cosa per la quale dobbiamo tornare sui nostri passi, dobbiamo riliberare questi due pali che avevamo catturato prima qua verso il basso. Perché adesso che il piatto è in posizione, li andiamo un attimo ad allentare, giusto un attimino, in modo che possano scorrere su e giù. Perché vogliamo farli andare su e giù? Proprio perché vogliamo farli andare in su. Quindi vado ad allentare anche le viti qua sopra, anche se non state vedendo, è esattamente uguale a quello di sotto che vi ho mostrato prima. E poi semplicemente il palo deve salire così e arrivare dentro al buco, ok? In modo da averli belli fissi, perché sono fissati sia sopra sia sotto. Li andiamo a stringere prima sopra, in modo che siamo sicuri che siano arrivati fino in cima. E poi sotto di conseguenza, in modo da proprio imprigionarli del tutto. Ok, se tutto è corretto, lui dovrebbe ancora scorrere senza problemi. Adesso quasi quasi ve la giro, perché se no è difficile vedere. Vado a prendere il mio rocchetto di filo, quello che ci danno in confezione, e lo uso un attimo per puntellare il piatto, in modo da poterci lavorare qua sotto senza problemi. Dobbiamo andare a mettere le mani su questo motore qua sul retro, che vedete deve essere anche un po' mollo. Deve ballare. Se non balla, svitate le quattro viti che lo tengono fermo, qua attorno. Ci serve questo accopiatore blu. Si allentano ovviamente le viti. Molto semplice anche qua. Guardate, ve lo metto qui così vedete. Spero ci sia abbastanza luce. Vado a prendere giusto un'altra brugola, la seconda più grossa, non so, qualcosa. E la vado a mettere qua di fianco, appoggiata, in modo che quando scendo con il mio pezzo blu qua sul motore, però dalla parte più stretta, perché ha un buco largo e un buco stretto, la brugola mi faccia da spessore, e questo pezzo blu sia circa un millimetro e mezzo staccato dal pavimento. Insomma, non deve essere proprio sul pavimento, deve essere un minimo distanziato. Opla, vado a stringere la vitozza, e ora lui è fissato sul motore. Perfetto, possiamo un attimo scendere col nostro piatto, e posizioniamo il motore in modo che il coso blu ricada esattamente nel buco. Dovresti vederlo. E vogliamo, ecco, guardate, così è dietro il gradino. Se faccio così il piatto scende un altro po', e il coso blu si incastra esattamente nel buco. Quindi lasciando il piatto in posizione, sfruttiamo i buchini che ci sono qui, per andare a riavvitare le viti e bloccare il motore così, in questa posizione. E quattro, quindi ora se il piatto va a su e giù, dovrebbe ricadere sempre nel buco. Poi ci serve questo coso di ottone, questo pezzettino di plastica che era nel sacchetto assieme a lui, e la molla che era nel sacchetto, ovviamente, assieme a entrambi. Sul coso di ottone metto la molla, così, semplicemente. Dall'altra parte della molla metto il pezzettino nero di plastica, così. E questi qua ora dovrebbero potersi stringere così, sulla molla e andare a incastrarsi. Perché ora ci serve la vita senza fine, qua il paletto della vita senza fine, deve entrare su di loro, solo che loro devono essere uno da una parte, uno dall'altra del piatto, quindi ho sbagliato. Mettiamo il coso di ottone di sotto, e il coso di plastica di sopra, in questa maniera, e poi la vita senza fine che sale attraverso il coso di ottone. E si va però subito a avvitare sul coso nero di plastica, perché anche lui è filettato. Questo scende. Insomma, la vita deve prenderli, eccolo qua, entrambi, con la molla in mezzo, entrare, salire, 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 salire il più possibile, perché così dopo può entrare nel coso blu, qua sotto. Coso blu che, a quanto pare, non era sufficientemente allargato per farla entrare. Eccola qua, oh yes, ok. Vado a ristringerlo sulla vite, e abbiamo il nostro assedetta funzionante, yes. Poi ci servono un paio di M4x6, eccole qua, le uniche avanzate, 4 M3x6, tutte a testa piatta. È tutto così in ombra, ah, perché non ho riacceso il... Ora forse mi vedete un po' meglio. 4 M3x6 piccoline, 2 M4x6, un po' più grandi. Metto un secondo da parte, ah, questa lavatrice. Ci serve il motore, quello che è sciolto, è l'angoliera che in teoria lui aveva già addosso, era solo appoggiata, ma... E questa piccola ruota dentata, che andrà appunto sul motore, e serve per, indovinate un po', per quella cinghietta che avevamo lasciato prima. Comunque, guardando lo spinotto bianco, non so, lo metto verso di voi, questo qua lo metto pendente verso di qua. Quindi la mia sinistra è a vostra destra. A destra è del coso bianco, insomma, se lo state guardando. Con le 4 vitine piccole vado a fissarlo addosso al motore. Vitine piccole intendo le M3x6, le M4x6 ci deteniamo ancora un attimo. E ovviamente sulla sua ruotina, sul perno, così, e via a chiudere. Pezzo completato, possiamo riprendere la nostra lavatrice. Ricordatevi che abbiamo ancora due viti avanzanti, perché ci servono adesso per fissarlo. Il retro è sempre verso di voi. Ah, in tutto questo ovviamente le 4 viti sul motore, non le ho sterette come al solito, dobbiamo aspettare. Infatti il motore, vedete, bascula ancora su e giù rispetto al pezzo con il quale andremo a fissare il motore qua, in questa posizione. Prima di fissarlo, però, lo passo dentro la nostra cinghietta magica. E poi con le due viti, qua dal retro, lo vado ad aggrappare. A questo punto possiamo, sia sistemare la cinghia per di fianco, perché vi ricordate questa ruotina è ancora ammollata, sia sistemare il motore in altezza, in modo che la cinghia sia sufficientemente tirata. E secondo me va proprio al minimo, va proprio nella posizione più bassa possibile. Forse sì, forse vi è più comodo anche a voi togliere il fondale della stampante. E poi vado a girare questo, in modo da avere le vitine che voi non potete vedere per nessun motivo adesso, perché è impossibile riuscire a inquadrarvele. E, opla, anche questo ce l'abbiamo. Se lo giro, se giro questo motore, il palo si muove perfettamente sull'asse Y. Ora il nostro fondale dobbiamo rimetterlo a tutti i costi, quindi quasi quasi. Me la rinclinerai così, con il fondale. Anzi, forse visto che la stiamo chiudendo, è comodo attaccare qualche filo, tipo quello del piatto, che è questo qua, con due bianchi e due neri. È quello che sarebbe il piatto riscaldato. E via tutti i fili per dentro, dopo li sistemeremo. Questi qua, forse... Tanto è impossibile sbagliare qua con i cavi, perché ogni Molex è diverso. Qui c'è questo qua, che andiamo ad attaccare al nostro caro motore. Quello corto va al motore, cioè qui sopra. E questo qua è lungo lungo, non so dove vada, quindi per ora lo lasceremo di la pendente, assieme a questi altri due. Di sicuro avranno i loro posti, ma ci penseremo più avanti. Via. Ritappiamo. Abbiamo quasi finito. Il nostro motore estrusore, in realtà no, non avranno tirati fuori i fili, meno male che non l'ho fatto, perché il motore, in questa maniera, se ne finisce dentro la stampante. Dovete fare un po' un giro così, perché vedete c'è lo spinotto, che se no non entra, quindi così. E poi giù. Abbiamo il motore estrusore, che è dentro la stampante, però spinge da fuori, comodissima. Qua c'è anche il sensore di filamento, che fa i giri in questa maniera. Dobbiamo fissare il tutto, con le M3x8, queste qua più lunghe, da dentro. Quindi completamente alla cieca, perché anche per me è totalmente buio dentro. Ok, ce l'abbiamo fissato. Il fatto che questa stampante sia chiusa, è il maggiore lato positivo, ma è anche la maggiore seccatura. Visto che se l'ho orientata così dalla vostra parte, vado anche a mettere il reggi bobina, di filo, qui da qualche parte a metà spallaccio. Ok, fissato anche il porta dal sacchetto qua, recuperiamo il cavo rosso, questo qui, grazie, permesso. Questo corrugato qua, da elettricista gigantesco, andiamo a distendere il cavo rosso, e ce lo infiliamo dentro, con molta cautela. Arrivo in fondo al tubo, e mi sa che devo tagliarne via un pezzo, col troncasino, perché è troppo lungo. Ok, si va ad attaccare un'estremità, ovviamente, del cavo, qui alla hotend, dovrebbe essere quello che alimenta il motore, e anche il riscaldamento del nozzle. Opla. Lui salirà, verrà qua dietro, entra da questo buco, e viene per dentro, a fare cose. Se vi ricordate, prima abbiamo attaccato questo cavo grosso qui, lì in basso, l'ho tolto un attimo, perché a questo punto lo metto anche lui dentro il corrugato. A una certa ci saranno due cavetti che si separano dagli altri, perché sono più corti, e quindi li lasciamo qua per i fatti loro, mentre gli altri proseguono. Ok, diciamo che più o meno qualche risultato l'abbiamo ottenuto. Comunque, alla fine del corrugato abbiamo queste due prese, che andremo prontamente ad attaccare rispettive porte qua in basso, non si può sbagliare, come ho detto prima, perché sono tutte diverse, quindi è proprio... Qui, dei due che uscivano a metà strada, c'è quello grande che va al motore, dell'estrusore. Quello piccolo, ci serve un po' di più filo, perché vogliamo farlo uscire da qui. Eccolo qua, e andarlo ad attaccare al nostro sensore di filamento, qui sul retro. Qui c'era un cavo lungo che avanzava, non sapevamo dove attaccarlo. È quello del motore dell'asse X, quindi va qui davanti. Raga, qua c'è una porta in più, ma non so cosa ci vada, cioè i fili li abbiamo finiti, e quindi penso che la stampante sia completa. Magari faccio fare un po' un giro migliore a questo qua, e gli leggo anche una fascetta intorno, visto che ce ne hanno fornite a profusione, giusto per tenerlo fermo qui, contro il coso. Ovviamente, come vi dicevo, questa stampante è bella per chiuderla, ma ci sono questi tubi che non permettono di chiuderla. Allora, o si riesce a fargli fare dei giri, perché questi qua sono piuttosto flessibili, o si riesce a fargli fare dei giri per dentro, oppure se dovete stampare roba tossica, ma solo per qualche volta, semplicemente prendete un sacco di plastica, lo mettete qua sopra, gli date un giro di scotch intorno, e quindi qua sopra fa una sorta di cupola flessibile, loro si possono muovere, e tutto il resto invece rimane sigillato da delle plastiche. Tra l'altro vorrei farvi notare che qua davanti hanno lasciato dei buchini per attaccare un'anta, quindi è prevista una porta, non so se la vendano addirittura loro a parte, oppure ho visto qualcuno su YouTube addirittura che l'ha stampata in 3D, cioè ha usato la stampante per stampare una porta per la stampante stessa, ma vedete che qua comunque ci sono gli attacchi per mettere una porta che si apra e si chiuda, e vado a sigillare completamente la nostra stampante. Quindi direi che vi lascio al timelapse della stampa, pollice in su se il video vi è piaciuto, pollice in su per lo sforzo. Il Bowden trattandosi di una Core XY è abbastanza lungo, ma l'estrutore fatto così, protundente verso la ruota, dovrebbe permetterci di stampare anche filamenti flessibili, visto che me lo chiedete sempre nei commenti, non so perché i filamenti flessibili siano così popolari, ma se vi interessa sì, dovrebbe stampare abbastanza bene i filamenti flessibili. È una Core XY, vuol dire che la testa qua si muove sia sull'asse X sia sull'asse Y, il piatto va giù solo sull'asse Z, vuol dire che i timelapse vengono particolarmente bene, quindi vi lascio al timelapse. Niente, ciao a tutti, pollice in su. Ed eccoci qua. Si comincia come al solito calibrando il piatto, se non vi ricordate come si fa, se non sapete come si fa, andate a guardarvi il mio tutorial su come stampare il 3D, proprio il mega tutorialone generale su tutta la stampa 3D, lo trovate qua sopra, cliccate sulla scheda che sta comparendo in questo momento. SD, filamento e siamo pronti. Allora, qualche considerazione sulla stampante, ovviamente sto registrando questo a posteriori. È veramente curatissima l'interfaccia, è fatta benissima, cioè dove la trovate un'altra stampante che vi fa il grafico dell'andamento della temperatura, cioè non ci credo, a parte che si è scadata velocissima, con tutta probabilità 24 volte, ma ci ha messo 1 minuto e 8 secondi ad andare in temperatura. Portare in temperatura sia il piatto sia il nozzle contemporaneamente, quindi tanta roba, cioè guardate quanto sta salendo velocemente, 1 minuto e 8 secondi, e in più il grafico è un tocco di stile assurdo. Guardate quando adesso torno nel menu principale, che mi è restato qua l'indicazione delle temperature, perché la stampante è calda, quindi è un momento in cui l'utente può voler sapere le temperature, allora te le metto piccole sulla piastrellina, così non devi cliccarci per saperle. Ti fa la musichetta alla fine della stampa, per farti capire che è finito. Come vi dicevo durante il video, ha il Wi-Fi, quindi si può stampare anche a distanza, direttamente da cura, direttamente dal vostro computer via Wi-Fi. E andiamo via alla stampa del nostro polipone di benchmark, polipone che faccio sempre con tutte le stampante AD, stesso filamento automaster AD, stesso G-code per tutte le stampanti. Purtroppo la clip qua del timelapse mi è venuta in 1080p, non so perché, quindi la qualità non è super entusiasmante, ma vediamo comunque quanto bene stampa. Penso sia la mia stampante AD, delle 11-12 che ho perso il conto ormai, penso sia quella che stampa con più accuratezza di tutte. Cosa vuol dire con più accuratezza? Vuol dire che il posizionamento del nozzle è accuratissimo. Ovviamente questo polpo di benchmark, essendo un G-code che uso sempre uguale, è stampato con il layer a 0.2 mm, quindi la qualità di stampa potrebbe essere anche doppia, potremmo stampare a 0.1, ma già così a 0.2 penso sia il miglior polipo che ho mai stampato, penso sia la stampante più accurata nel posizionale filamento che ho mai avuto. Il dettaglio delle dita sulla mano è impressionante, addirittura c'è il buco tra il pollice e l'indice, cioè si è riuscito a creare la piccola asola tra le dita. Anche il dettaglio dell'occhio è veramente venuto stupendamente il polipo. Non posso nascondervelo perché sennò il titolo di questo video sarebbe stato la stampante 3D perfetta. Purtroppo due lati negativi che poi valutate voi se possono essere importanti per voi. Il primo è il costo. Per quanto spedita dall'Europa, quindi niente dogana, spedizione veloce e cose varie, sia da AliExpress sia da Gearbest, il costo è secondo me un po' eccessivo per una stampante, pur molto molto buona del genere, però comunque secondo me potevano tirarci giù una cinquantina di euro. Il secondo è un problema all'estrusore che ho riscontrato, anzi più che all'estrusore all'attacco del Bowden, purtroppo il Bowden tende a saltare fuori. Quando l'estrusore spinge il filamento, a meno che non lo blocchiate come ho fatto io con una fascetta d'elettricista e comunque ancora tende a uscire, rischia di saltare fuori il Bowden. Allora probabilmente è una cosa facile da sistemare, nel senso basta cambiare il pezzettino dove si attacca il Bowden, magari è difettoso il mio, però visto che anche nelle istruzioni mettevano questa fascetta d'elettricista, magari basta un po' di colla a caldo, bicomponente, un po' di fil di ferro, non so, ci sarà di sicuro in modo. Comunque questi erano poi i due difetti che ho riscontrato in questa Flying Bear Ghost 4 che resta comunque una molto soddisfacente stampante. Penso che se riesco a sistemare il problema del Bowden diventerà la stampante con la quale stampo più spesso per questa precisione, accuratezza di stampa e per l'interfaccia veramente tanta roba. Puoi aggiungere le stringhe di C-Code mentre stampa, puoi mettere in pausa e aggiungere pezzi di C-Code scrivendoteli con la tastiera sul tasto e scrivete. Geniale, geniale. Per questo video è tutto, ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.